Ciao a tutti, sono David Di Marco, sono nato a Chivasso, vivo a Torino, sono un insegnante e uno scrittore. Lo scritto romanzo Non si chiede il nome alle fate, il mio racconto Sogno d'acqua è presente nella raccolta Oltre il Velo del Reale. Sono qui per raccontarvi la mia storia. Se volete saperne di più, acquistate La Voce in Edicola martedì 25 gennaio oppure acquistate l'articolo online.